buonasera e benvenuti a chiara ci racconta dentro a noi frammenti di siena sono molto contenta stasera perché vi vorrei presentare un libro che i pasticci di leonardo di simona bertocchi io ho conosciuto simona la presentazione di questo libro proprio qui a siena dentro al cortile del podestà quindi c'è una location di tutto rispetto e simona è stata veramente molto brava molto intrigante in questa presentazione quindi mi ha fatto venire la voglia proprio di leggere tutto tutto il romanzo e mi è piaciuto molto quindi spero che con le letture che vi faccio stasera venga anche a voi la voglia di cercarlo e di leggerlo tutto e la sapete io quando prendo un libro a meno che non vada in libreria apposta perché so cosa voglio però insomma me lo guardo mi guardo se mi piace la copertina una cosa proprio veramente terra terra poi leggo dietro e qui dietro l'avrei comprato qui è leonardo che parla il gusto e l'olfatto stimolano l'affettività il rifiuto l'attrazione la pace e anche la rabbia se mangiate un dolce pasticcio vi si scioglie in bocca un ettare irresistibile non vi state solo riempiendo la pancia state ingerendo emozioni e ricordi come fate amato zio a non capirlo e come fate a non capire che alcuni ingredienti possono alterare le emozioni c'è la scienza nella pasticceria ecco perché mi appassiono quello che voi chiamate arte poco nobile quindi qui c'è qui c'è anche c'è anche ci sono anche ricette è sicuramente si parla di un leonardo meno meno scontato e quando già il retro mi ha convinto a prendere il libro allora sbircio un po anche l'interno della copertina dove in genere c'è un po un riassunto di quello che che tratta il romanzo il libro in questione e qui veramente questo riassunto è molto intrigante eretico falsario esoterista spia pittore scienziato architetto su leonardo da vinci se ne sono dette molte forse perché la sua biografia è costellata di enigmi non ancora risolti di certo sappiamo che fu eclettico al limite della schizofrenia estremamente curioso e che annotò qualunque cosa li passasse per la testa nel disporre le proprie volontà il genio toscano indicò nel giovane francesco melzi l'erede del suo tesoro più prezioso tutti et ciascheduno li libri che possiede ossia decine di migliaia di fogli con appunti manoscritti e disegni sugli argomenti più disparati accumulati nel corso di un'intera vita inizia così la storia dei codici di leonardo che nel corso dei secoli si disperdono in tutto il mondo uno di questi il più anomalo e anticonvenzionale viene ritrovato nel corso di un trasloco da scagno righi pasticcere a vinci nei locali in cui secondo la leggenda sarebbe stato ubicato il forno e il mulino di famiglia di leonardo si tratta di un taccuino ingiallito le cui pagine seppur ridotte a un velo sono ancora leggibili all'interno sono annotati pensieri confusi conteggi delle entrate e delle uscite disegni e diverse ricette di dolci ricette ben strane secondo chi scrive infatti avevano poteri taumaturgici e forme originali sono l'occasione per ascanio di rimettere in discussione tutta la sua vita fino ad aprire una linea di pasticceria rinascimentale i pasticci di leonardo coadiuvato da due storiche e dalla donna che gli ha ridato serenità affettiva ascanio deve anche rispondere a domande inquietanti quale collegamento ha il taccuino di leonardo con l'antico sultanato ottomano di bayesid secondo e soprattutto quali sono i veri poteri dei dolci del maestro romanzo intrigante combina abilmente alchimia profumi sapori ed emozioni e come al solito io vi inizio proprio dal dall'inizio e e poi andiamo avanti un pochino proprio per farvi venire la voglia il prologo mettiamo anche un po un po di musica da qualche giorno i francesi avevano permesso a milano di sollevare la testa la città era esausta dai saccheggi selvaggi e dal sangue versato le truppe di francesco primo dopo la sconfitta per mano degli imperiali erano ancora più inferocite il duca francesco secondo sforza ultimo figlio di ludovico non fu all'altezza delle strategie dell'abilità militare del moro il popolo si sentiva orfano e abbandonato piegato da un vento di guerra che soffiava furioso nella stanza dove dormiva salai con la moglie filtravano strisce di luce d'argento le grida dei soldati erano l'unico suono di quella notte infinita di luna piena giovanni giacomo caprotti per tutti il salai si era barricato in casa gli uomini dello sforza lo cercavano per vendicarsi del suo tradimento aveva già venduto a re di francia molti beni ereditati dal suo maestro leonardo tra cui il quadro della gioconda e altri dipinti dal valore di 1250 scudi una cifra considerevole alla quale si aggiungeva il valore di pietre preziose vestiti di lusso come se non fosse bastata tanta ricchezza il nome di salai compariva nel registro degli assegnatari di lauti doni e benefici ricevuti dalla corona francese la sua sposa gli si era raggomitolata accanto soffocando il pianto la carezzò sfiorandole appena la spalla e la baciò le baciò la fronte in un gesto istintivo mentre lei chiudeva gli occhi salai stava male non controllava più il suo corpo e la sua mente gli ultimi dolcetti mangiati contenevano delle droghe ormai ne era dipendente i pensieri e suoni si deformarono come salvare il diario che era riuscito a togliere dalle mani di francesco melzi ragionare era difficile melzi era arrivato alla bottega di leonardo molti anni dopo salai dimostrandosi il più dotato e affidabile tra gli allievi il maestro lo scelse per affidargli la sua eredità intellettuale alla ricca bibliografia in possesso di melzi mancava però il diario in cui leonardo dava sfogo a visioni e malinconie e su cui scriveva i pensieri più fragili e strane ricette il diario gli era stato sottratto proprio da salai l'assistente indisciplinato scomodo imbroglione ma anche l'unico a cui il maestro aveva aperto l'anima colui con cui aveva diviso tutto i ragionamenti di salai scivolavano disturbati dalle grida francesi provenienti dalla strada e dal pianto sommesso della moglie era dilaniato dai dubbi si chiese se fosse giusto raggiungere i medici e consegnare gli iscritti visionari di leonardo con la speranza che il granduca di toscana cosimo il grande lo accogliesse con l'ospitalità che si aspetta chi per anni ha servito e assistito il più rivoluzionario artista d'italia o forse continuare le trattative con la francia era meno pericoloso dalla strada qualcuno lo chiamò vieni fuori cane venduto ai francesi l'effetto delle delle droghe l'orgoglio ferito lo fecero reagire prese il coltello che si portava sempre dietro e barcollando scese in strada con uno sguardo folle la moglie tra i singhiozzi pregava santa chiara di salvare anche quella volta il suo giovanni giacomo il tuono di uno schioppo e l'urlo straziante del marito le fecero capire che la santa non l'aveva ascoltata primo capitolo le nuvole di caterina succedeva sempre più frequentemente che la buca dei golosi non avesse più tavoli disponibile la pasticceria di sera a cattabriga era diventata un nome conosciuto nella val d'elsa non si trattava di una delle tante taverne simili ai bordelli dove veniva servito del pessimo vino annacquato e ci si guardava alle spalle dagli attentatori no dalla cattabriga ci si andava per peccare di gola i commensali parlavano con la bocca piena e lo sguardo eccitato alcuni ridevano sguaiatamente dandosi pesanti colpi sulle spalle altri mangiavano a testa china i bocconi dolci e polposi gocciolanti di creme a ingozzarsi del cibo del peccato erano rozzi contadini arroganti commercianti e noti banchieri ogni tanto però capitavano anche signori di palazzo e artisti di corte gli uomini non toglievano gli occhi di dosso da donna caterina alcuni l'avevano già spogliata col pensiero non resistevano all'impulso di afferrarla dai fianchi morbidi per sentirla fremere e di vincolarsi sotto le loro mani ma la bella locandiera era una femmina capace di farsi rispettare anche se i suoi ceffoni e i morsi e rabbiosi su quegli uomoni scatenavano solo grasse risate e poi il capitolo va avanti e vi prendo un uno stralcio di questo capitolo perché già vi devo lasciare un po così in sull'uccheri vinci 1462 leonardo era incuriosito da tutto quello che non conosceva e dall'odore che arrivava dal forno del suo patrigno nel magazzino tra vasi recipienti e ampolle scorse grosse pignatte in ebollizione dentro un liquido scuro galleggiavano delle scorie e aveva un odore pungente su un foglio erano annotati i nomi degli ingredienti si concentrò per tradurre la scrittura della cattabriga e lesse pietra di menfi per alterare intorpidire i sensi foglie e radici di mandragora per dare vigore e infondere effetti afrodisiaci celidonia o erba di santa chiara per portare fortuna ma anche per esercitare il male cala per venere per alimentare discrezione e modestia manna ottenuta dalla linfa della corteccia di frassino sostanza divina per allontanare le negatività vischio per fare innamorare e ancora polvere di argento e oro radici di fiori di loto smise di leggere ma la lista era lunghissima se non sono pozioni magiche queste pensò gli piaceva guardare il patrigno mentre impastava mescolava sfornava l'estratto delle piante la polpa dei frutti scivolavano nelle uova venivano inghiottiti dalla farina ricoperti dalla cannella e dagli agrumi canditi amalgamati nel composto di mandorle tritate e zenzero l'astuto a cattabriga vendeva le sue magiche lecorni a caro prezzo a mariti gelosi e sospiranti fanciulle perse dietro amori impossibili cavalieri senza coraggio mercanti che volevano raddoppiare i loro denari otterrete il vostro scopo solo mangiando queste delizie madonna ogni giorno dovrete servire al vostro amante i miei dolci pasticci e non dimenticate la crema rossa fatta con l'ingrediente segreto in poco tempo dimenticherà quella passita e grigia ereditiera e sceglierà il vostro sole non potrà fare a meno della primavera che avete in corpo leonardo sorrideva per l'arte dell'adulazione del patrigno ma dopo la poesia a cattabriga presentava il conto con grande naturalezza spero di avervi incuriosito perché i pasticci di leonardo è molto più di questo e insomma grazie simona bertocchi per aver scritto un libro veramente molto molto bello e anche intrigante e allora chiara ci racconta con noi frammenti di siena torna giovedì prossimo poi se volete potete seguirmi sul mio canale youtube chiara sa voi e anche su facebook con una lettura al giorno grazie alla prossima ciao